E già ragazzi, anche stavolta siamo su FIFA 15 E salve a tutti amici, sono AlexFIFA98 e benvenuti in questo nuovo video Finalmente vi porto un altro episodio di FIFA 15 Ragazzi, siamo su un torneo speciale che la EA ha creato E non mi ricordo come si chiama, Foodbrines, una roba del genere Comunque dobbiamo vedere tra tutti i titolari Tra i giocatori della Bundesliga, tra i giocatori della Serie A e tra la Liga BVV Ho creato una squadra un po' con poco intesa diciamo Perché tra i tre non avevo tanti giocatori nel club che mi potevano permettere di fare una squadra perfetta E comunque questa è la squadra che ho creato Il Pepito Rossi l'ho messo perché volevo provarlo da tanto tempo Perché l'anno scorso in FIFA 14 era ultra puggato Se non l'avete provato, avete corretto i FIFA 14, provatelo perché è una bestia assurda Comunque spero che questa cosa vi possa piacere Lasciate un like ed un commento Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto E noi ci troviamo subito nei match sperando di stare dentro il tempo massimo dei 35 minuti Che vi ricordo che abbiamo E ci troviamo subito in partita Eccoci tornati ragazzi, abbiamo trovato il nostro avversario Io non ho visto che Valutazione Club ha 8700 U cazzo proprio Noi abbiamo il Pepito Rossi e Mario 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 Gome Dai da lì Dai da lì Sì Ma che Vai Gomez Gomez man of the match Mario Gome 1-0 subito Buoteng Buoteng Un altro palo Uh bella questa palla per Bale Bella questa palla per Bale Ma Ter Stegen Ter Stegen c'è Royce C'è la messa dentro Vecco Rossi Rossi Ci smarca Rossi Cesar Prates Cesar Prates proprio lì O un altro qualcosino eh A 45 Per fortuna Alaba c'è il piede C'è il piede a banana Finisce Finisce Il primo tempo Rossi Mi dispiace Sei fuori 15 tiri ci ha fatto Guarda Ragazzi ci ha dominato Trova 15 tiri Infatti no Importa No ho sbagliato Ho sbagliato Mi dispiace Rossi Sei fuori Dentro Carlos Tevez Go Ah Royce ancora lui Spurga Dalle parti Dalle parti Dani Alves Più che ragazzi Non c'è niente da fare Ci si passa come Ci si buca come del formaggio svizzero E Royce fa Fa come gli vuole E se ne va Teve Tevezu Neuer 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 Tevezu Vado con sta parata Tevezu Tevezu Pareggio Carlos Tevezu Per fortuna L'abbiamo messo Per fortuna Carlos Tevezu Scusate ragazzi Mi è morta Mi è morta La batteria Della Telecamera Ci mancava solo questa Purtroppo ho preso un gol Mentre stavo cercando di Rianimare la mia telecamera Ma purtroppo E' andato così Siamo ormai all'84esimo C'è poco da fare C'è andato un fallo Vediamo se lo fa battere Più forte Tevezu Vediamo cosa fa Tevezu Vediamo cosa fa Tevezu La buttanellato dei Cesar Pratesu Niente che dire ragazzi Purtroppo credo che il risultato sia questo Spero che questo video vi possa essere piaciuto Nonostante il disco con la telecamera Lasciate un like ed un commento Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto Scusatemi ancora Se vi porto pochi pochi video in questi giorni Ma purtroppo Il tempo a disposizione che ho E' questo qui Ehm Sconfitta Vabbè ragazzi Non succede niente Abbiamo fatto una buona partita Se non fosse stato per Beh Ci ha un po' dominato voglio dire 29 tiri ha fatto questo qua Ehm Non so quando gli ha fatti i 29 tiri Perché non gli ha fatti Ehm Non lo so Abbiamo Abbiamo troppe Troppe lacune in difesa Ehm Dirai proprio di mettere Ramos Adesso che mi è uscito Mi è uscito dalla Dall'espulsione Perché c'avevo Ramos Si però era espulso Quindi ho dovuto mettere Pichet Metto De Marcos 90 di velocità Spero che questo video vi possa essere piaciuto Buona visione Perché buona visione? Vabbè lasciamo perdere Vabbè 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 Vabbè